Sto filmando, seggio pazzesco, per Pasquetta? Andiamo a infastidire qualcuno Ma il tasto, a me mi rompe con io Perché mi rompe con io? Andiamo a infastidire anche lui Andiamo a infastidire anche a Massimo Avete qualche preferenza? Qualcuno vuole? I sicilinelli dove sono? E a Luigi? Il sicilinello dov'è? La sua maglietta che proprio spiega meglio Andiamo fuori, andiamo fuori a vedere come se la cavano i cuochi senza di me Ehi ragazzi Questo è Gnappo Gnappo Fai il quadro Gnappo 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 Potremmo bruciarla A posto Ragazzi avete svuotato la griglia? Come se perché ce l'avete fatta? Ehi è salio Ehi è salio C'è una penna la faccia Ehi è salio Ehi è salio